Allora Mattia, per prima cosa complimenti, una convocazione che mancava da un po' di tempo ma assolutamente meritata. Sì, è ritornata questa convocazione dopo un bel lungo periodo e adesso dopo queste ultime partite in cui ho fatto bene è arrivata questa convocazione. Sono molto contento e speriamo di poter confermare questa fiducia da parte della nazionale. Giocherete contro una squadra di prestigio, la Germania, non è mai una sfida banale? Sì, è l'ultima partita del torneo 4 nazioni contro una grande squadra e speriamo di fare una bella partita. Hai una dedica o dei ringraziamenti da fare? Ma oltre alle solite, alla famiglia, è una dedica alla società che comunque in quel periodo difficile da cui sono uscito mi ha creduto in me, mi ha dato fiducia e adesso sono ritornato a essere in forma. In Forza Albinole F e Forza Italia? Sempre, Forza Albinole F e Forza Italia. Forza Albinole F e Forza Italia